Ciao ciao a tutti, è questo qui di Ciao Classico, giusto? Sì, è questo qua di Ciao Classico, scappa finché sei in tempo Ma no dai, non sembra così brutto, è che i materi si studiano qui Eh, italiano, greco, latino, storia antica, latino, greco, e noi, latino, latino Ah, è un po' difficile, almeno troverai un bel lavoro che ti baggeranno molto, eh Ah ah, un sacco di soldi, sì, infatti Martina adesso fa la bidella Mentre Roberto e Marco sono andati a lavorare al Mac insieme Beh, almeno noi tanti amici, vero? No, no, se entri qui non hai più vita sociale, scappa!